BYD ha lanciato qualche ora prima dell'apertura del Mondial dell'Automobile di Parigi la sua gamma per l'Europa, composta dai modelli Atto 3, Tang e Han. Il primo è un SUV di segmento C, pensato per i clienti europei, del quale abbiamo abbondantemente parlato in diversi articoli di Electric Motor News. Il BYD Tang è uno sport utility vehicle a sette posti dotato di trazione integrale variabile, mentre il BYD Han possiede le nuove Blade Battery, una tecnologia di proprietà di BYD che sta rivoluzionando la sicurezza, la durata e le prestazioni del settore dei veicoli elettrici. Nei servizi vi proporremo in diversi blocchi la conferenza stampa completa di presentazione, nella quale Electric Motor News è stata presente con tre inviati speciali. Due di loro, Aurora Bovone e Dario Ruggeri, hanno svolto il lavoro giornalistico e di fotoreporter e cameraman, in occasione della presentazione. Ma di nascosto c'era anche l'orecchio lungo di Electric Motor News, che come sapete non si occupa soltanto di Formula E. A Parigi, come era stato precedentemente annunciato, è stata lanciata la gamma per i mercati norvegesi, svedesi, danesi, dei Paesi Bassi, del Belgio, del Lussemburgo e della Germania, che potranno acquistare le vetture da subito, mentre i clienti di Francia e Regno Unito avranno accesso ai veicoli a zero emissioni di BYD entro la fine dell'anno. Ufficialmente, nulla è stato detto dell'Italia, ma Electric Motor News, grazie al suo orecchio lungo, è in grado di dire che un importante manager dell'azienda cinese ha assicurato in una conversazione privata che prevedono e sperano di sbarcare in Italia già alla fine del 2023 con questi tre modelli e con gli stessi prezzi già annunciati. Come si dice, i muri hanno orecchie e a volte le porte degli ascensori sono traditrici.